Come è nata l'idea di dar vita a questo progetto? È nata da tantissimi anni per realizzare questo progetto, per cercare di stare insieme invece che continuare a bisticciare sui bambini, sui ragazzi e sugli adolescenti che vogliono fare sport. È nata per il fatto che oggi l'attività sportiva è un movimento sociale importante e lo deve essere ancora di più, ma nell'ambito della salute il bambino, il ragazzo, l'adolescente e anche l'adulto sportivo deve fare praticare attività sportiva nell'ambito della salute, nel senso che deve essere controllato, valutato e tutto. L'altro fatto è che tutti i bambini e tutti i ragazzi fanno una monoattività sportiva quando la fanno e nessuna attività sportiva è sufficiente a movimentare tutti gli apparati muscoloscheletrici. E così anche le attività di gruppo sono diverse da quelle singole, per cui noi abbiamo inserito la complementarietà dell'attività sportiva all'interno dei nostri corsi. Tutti i bambini fanno almeno un secondo corso, provano durante l'anno diverse altre attività. L'ultimo fatto è quello economico, stare insieme si fanno economie di scale. Oggi le società sportive, associazioni varie, fanno fatica veramente a sopravvivere, perché non è giusto chiedere emolumenti e chiedere quote associative così esorbitanti, ma dall'altra parte abbiamo istruttori validi, gente laureata senza motore che ha anche dei diritti economici e questo oggi si fa fatica a far funzionare. Insieme vuol dire economie di scale, vuol dire fare centri di acquisti, vuol dire utilizzare in pieno gli impianti. Un progetto che immagino in futuro potrà anche allargarsi ad altre società che vorranno entrare a far parte della famiglia. Certo, noi siamo aperti a tutti, anzi proprio da qui invito tutti, siamo in colloqui avanzati anche con la Polisportiva Stella. La prossima settimana andremo a ginnastica artistica. Tutte le attività, tutte le altre società sportive possono partecipare, non abbiamo preclusione di alcun tipo. Questa non è un'associazione di tipo economico, è un'associazione finalizzata a fare appunto della sanità, della salute nell'ambito dello sport, per costruire quello che oggi manca a Rimini che sono gli atleti.